nella terza puntata della scorsa edizione di cambio casa cambio vita ho trasformato un appartamento milanese degli anni 90 in un grande open space metropolitano ho scelto una cucina vista con un'isola centrale dall'aspetto industrial e dall'identità molto forte perfetta per inserirsi nel contesto underground pensato per il mio giovane committente un comodo divano componibile invita le chiacchiere in compagnia sullo sfondo la parete di mattoni a vista scalda l'ambiente e dona all'open space il classico look da loft niorchese il mio ruil regala quel tocco di colore immancabile nei miei progetti e viene ripreso qua e là negli arredi e nei complementi ho scelto serramenti in vetro e ferro come quelli degli edifici industriali che senza pesantire permettono di suddividere gli spazi con stile come nel caso del guardaroba vista all'ingresso utile per riporre le giacche dei tanti amici che verranno a trovare nicolas per trascorrere una serata davvero signor chesi ehi 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 ehi